Un pilota messinese cercherà di conquistare il record mondiale di Offshore a bordo del Tommy One, il potente e innovativo motoscafo di Maurizio Schepici. Fra il 28 e il 30 agosto, in base alle condizioni meteo, il pilota campione del mondo Endurance Gruppo 2 e vice campione del mondo Gruppo A alla guida del Tommy One lancerà la sfida per la conquista del nuovo record mondiale di Offshore Messina Vulcano Messina di circa 80 miglia in meno di un'ora. Copilota con Schepici l'esperto Giampaolo Montavoci che vanta una ricca carriera motonautica a livello mondiale ed ha militato per molti anni nel campionato mondiale classe 1 ed è vincitore di alcuni titoli italiani. L'imbarcazione con la quale Schepici tenterà il record mondiale è stata costruita nei cantieri Metamarin con strutture in Kevlar, PVC espanso ed ancora Kevlar. Nonostante le misure importanti, la barcha è abbastanza leggera per la sua tipologia, circa 7000 kg per una larghezza di 14,6 metri. Monta due motori Sitec biturbo diesel da 10.013 cilindrata cada uno con uno sviluppo di circa 950 cavalli. Marcello Zanardi team manager del Tommy Racing sta curando la parte tecnica del record. Martino Cama sarà il capobarca che seguirà i meccanici per la messa a punto dei motori.